Freelance Camp è un collettivo di persone che non vedono l'ora di condividere È un po' come quello spazio di fianco alla sala studio dove si imparano le cose davvero utili e soprattutto ci si diverte un sacco Freelance Camp è Natale che arriva in anticipo è networking ed è un'occasione per imparare a mettersi in gioco, non mancate Per me Freelance Camp è una bella balotta da cui imparo sempre tanto divertendomi e curiosità È una bellissima occasione per conoscere altre persone, per formarsi e per condividere Conoscenze, conoscere altre persone che lavorano in proprio e anche imparare cose nuove Freelance Camp è conoscere persone nuove, costruire relazioni e uscire dalla propria bolla Freelance Camp è un modo per allenare la mente